A Pechino da tempo lavora Alessio Fortunato, un ebolitano professionista apprezzato, 29enne, enologo, consulente in wine business e professore presso la prima università in enologia e wine business istituita in Asia. La situazione qui in Cina è veramente preoccupante, dice in un post su Facebook. Sto bene al momento anche se sono molto preoccupato perché la situazione non migliora. Alcuni supermercati sono aperti ma molti di loro sono quasi vuoti. Se esci di casa ci sono le guardie giurate che ti controllano la temperatura quando esci e quanto entri. Nessuno esce, tutto è fermo, ristoranti, negozi, uffici. Sembra di essere in un firma dove tutto è surreale. Molte persone hanno paura, altre invece utilizzano l'ingegno come in alcuni ascensori dove per non toccare i tassi si utilizzano degli stuzzicadenti, usa e getta. Questo evento tragico avrà sicuramente risvolti duri per l'economia e per la vita delle persone. Un grazie a tutti i medici cinesi che lavorano non stop per salvare vite. A loro è il mio più grande grazie e rispetto. Gli sforzi del governo cinese sono forti per contenere il virus. Grazie per tutto. Ragionate quando succedono fatti del genere e non fatevi prendere dal qualunquismo il razzismo ignorante. Come ad esempio persone che non vanno a mangiare nei ristoranti cinesi in Italia. Ogni cosa che succede può essere una grande occasione per migliorare noi stessi e il mondo. Un saluto dalla Cina. Nel frattempo notizie rassicuranti arrivano da Sarno. Sono stati dimessi due cinesi ricoverati in ospedale ieri. Sono risultati negativi al coronavirus.